Gioia ed orgoglio i sentimenti che hanno accompagnato l'onorevole Mariangela Matera sabato sera nell'inaugurazione ad Andrea della segreteria politica in via Don Luigi Sturzo. A distanza di pochi mesi dall'elezione alla Camera dei Deputati, infatti, Mariangela Matera ricorda di aver mantenuto una promessa fatta all'elettorato di tutto il territorio. Sono molto felice e orgogliosa perché queste mura rappresentano una promessa mantenuta, la promessa che avevamo fatto il 25 settembre ai nostri elettori e rappresentano un punto di partenza, il punto per un nuovo corso, per accogliere le istanze del territorio, portarle a Roma e creare un collegamento tra Roma, tra il Parlamento e il nostro territorio. Quindi le promesse le manteniamo, pur tra mille difficoltà le manteniamo. Questa sede è anche il frutto di un lavoro di squadra. Io sono spesso fuori e quindi chiaramente se non ci fosse la mia squadra che mi ha dato una grandissima mano, questa è anche la prova che uniti si vince. Raccogliere le istanze del territorio dei cittadini ma anche incontrare fisicamente le necessità che potranno presentarsi di volta in volta. Tante emozioni che si fonde con la consapevolezza del grande lavoro da fare in Parlamento. Il periodo è difficilissimo, ci siamo trovati credo in uno dei periodi più difficili dopo il dopoguerra e quindi è molto faticoso, però abbiamo raggiunto grandissimi risultati. Portare a casa la manovra non era una cosa scontata, abbiamo scongiurato l'esercizio provvisorio e quindi siamo veramente felici del lavoro che siamo fatti. È impegnativo, molto impegnativo. Un grande lavoro di cui è cosciente l'onorevole Matera, rappresentante di un territorio variegato e che ha tante emergenze a partire dalla sicurezza. L'essaggio a questo innesto di nuovi poliziotti è sicuramente un grosso contributo ma ci saranno tante altre cose ancora di cui occuparsi. La sicurezza, l'ospedale, ci sono tanti punti ancora da affrontare e da risolvere. Una serata particolarmente partecipata con tanta gente, tanta emozione, come detto, e l'intervento dei vertici di partito regionali e provinciali. Accanto alla segreteria dell'onorevole Matera ci sarà anche la sede del Circolo di Fratelli d'Italia di Andria, che si candida inevitabilmente a crescere ulteriormente sul territorio, in controtendenza con il sentimento di antipolitica. Infatti c'è questa inaugurazione, quella di una sede fisica di prossimità ai cittadini. E avere un numero civico, una sede, significa che tu ti stai mettendo ancora di più a disposizione delle persone. Se mi vuoi incontrare puoi venire qui, ne parliamo, capiamo quali sono le necessità, ma soprattutto siamo nelle condizioni, in questi luoghi, di poter creare le alternative, dove siamo all'opposizione nelle varie città come qui ad Andria, ma allo stesso tempo creare scenari per quello che può accadere nei prossimi anni. La fortuna di avere sul territorio, l'opportunità di avere sul territorio l'onorevole Marianciola Matera, che apre una segreteria, significa anche, nonostante gli impegni su Roma, qui la disponibilità di ascoltare la gente.